bella a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovissimo video io sono re claus e oggi siamo qui ragazzi con un nuovo contest inutile girarci intorno ragazzi come vedete da questa schermata il premio in paglio sarà un nocturno anzi cosa dico cinque nocturni perché questa volta non tre ma ben cinque persone vinceranno vincerete come ho detto prima questo nocturno al 130 maxato vi vado a dire al volo le perk che ha velocità di ricarica tanta roba livello critico probabilità di critico doppio addirittura io personalmente all'ultima perk cioè la penultima perk ci avrei messo danni e bersagli afflitti in combinazione con il tormento però mi hanno spiegato in molti che pure il doppio critico non è non è affatto da sottovalutare quindi niente proviamola così che dire ragazzi due piccole premesse prima di iniziare a spiegarvi come funziona il contest allora prima di tutto ragazzi a fine video troverete le clip dei vincitori del contest scorso il contest sul ratatat per dimostrare ai nuovi iscritti che magari un po dubitano che tutti questi contest sono veri e non sono né truccati né falsi seconda premessa ragazzi niente condividete questo video con tutti i vostri amici lasciate like in modo da supportarmi e farmi crescere ok ragazzi come funziona questo contest semplicissimo come un contest che ho fatto tempo fa io domani alle 15 precise ovvero alle 3 di pomeriggio precise lascerò un commento sotto a questo video i primi 5 che commenteranno sotto a quel commento ovvero risponderanno a quel commento con il loro id e hashtag io partecipo vinceranno quindi semplicissimo ragazzi se a qualcuno non fosse stato chiaro scriverò di nuovo sotto un commento come come partecipare a questo contest e come vincerlo quindi niente ragazzi ora farò al volo un gameplay con con questo nocturno e vi dico subito gli eroi con cui lo andrò a provare lo school trooper tanta roba insieme al wukong che incrementa il 24 per cento i danni delle armi d'assalto ovvero del nocturno perché è un'arma d'assalto e ramirez maestro di granate che me lo fa diventare un survivalista ovvero ogni uccisione che fa prende recupera la vita tanta roba quindi niente senza perderci in chiacchiere andiamo a provare questo nocturno ok ragazzi eccoci qui in partita con il nostro nocturno eccolo qua 130 max out e proviamo l'avvolo contro questi zombie qui ma cosa dire ragazzi è inutile anche commentare questo è il grandissimo nocturno e niente buona fortuna per il contest ragazzi ma prima di andarcene facciamoci pure al volo a questo accampamento così vi faccio vedere in tutto e per tutto la potenza del nocturno ok e niente abbastanza facile bella raga bella a tutti ragazzi siamo qui con i due vincitori del contest che ho fatto ieri del ratatat arma fortissima raga se avete diversi il video andatela a vedere che la provo perché sono in due perché il terzo come tutti i miei contest regano risponde quindi per ottimizzare i tempi intanto faccio la clip con loro due e il test poi lo contatterò in privato salutate ragazzi bella breve intervista prima di darvi l'arma com'è stata questa esperienza madonna bellissima ok uno dice bellissima l'altro non risponde una parola culo una parola culo ci sta ci sta e vi aspettavate di vincere o no no sinceramente cioè appena mi è arrivata la modifica del spazio di Toggio ok invece te Edoardo ti aspettavi di vincere avevi un po' di speranza ti è avvenuto un infarto addirittura ok volete aggiungere qualcosa per youtube o niente vi prendete l'arma e ve ne andate così vorrei salutare il mio cane ok saluti il tuo cane come si chiama come la femmina ce l'è ok bel nome invece te vuoi salutare qualcuno familiari amici si lo sento il cane che abbaglia ok non vuoi salutare nessuno fa niente ultima cosa importante volete rassicurare i fan con questi contest non lo so volete dirgli qualcosa di non perdere la speranza cosa che dico sempre pure io ok prendetevi un rato a testa una te prima le signore prima le signore che dicono è una te e niente ragazzi finisce qui la clip dalla tutti bella ragazzi siamo qui con l'ultimo vincitore del contest se vedete gli altri due iscritti sono rimasti qua ad aspettare che che lui o lei entrasse non l'ho ben capito sinceramente lei ok una femmina che gioca a salva al mondo nulla di strano non ho viste parecchie e breve domanda prima di darti il premio intanto graffiamo il rata tazzo come è stata questa esperienza mi senti mi sa che mi si è scaricato il controllo mi sa pure a me perchè non sento più l'audio che va avanti aspettiamone ancora un po' oh la connessione non so le piste ci sei? a me sta cercando il caricabatterie ok ragazzi eccoci qui ha detto che gli si sono scaricate le cuffie quindi niente intervista gli diamo il premio e basta tieni qui il tuo premio rata tatto 130 maxato se sei ok il balletto ci sta niente prego e alla prossima bella